Musica Amici di Atisport24, bentornati, nuova puntata di 2 metri la pallanuto vista da vicino Torniamo oggi ad occuparci nuovamente della formazione femminile della Netafim Bojasco 1951 e per parlare della compagine Ligure è un piacere accogliere nel nostro salotto virtuale l'attaccante del set allenato da Mario Sinatra, Giulia Lombella Ciao Giulia, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito Ciao, grazie a te Giulia, iniziamo la nostra chiacchierata dall'ultima uscita ufficiale come avete archiviato la sconfitta subita sabato contro la pallanuto Trieste in quello che era lo scontro diretto per la quinta posizione un match che è finito 5-4 per le Giuliane che penso vi abbia lasciato un po' di amaro in bocca Sicuramente non è bello uscire da una sconfitta soprattutto come questa potevamo sicuramente fare di più non si può negare che nei primi due tempi eravamo un po' più contratte mentre dal terzo in poi è uscito il vero bogliasco le bogliaschine che non mollano mai, ci credono sempre e lottano fino all'ultimo finché non è finita la partita sicuramente potevamo fare di più come in tutte le partite si può fare sempre di più da questa sconfitta bisogna imparare appunto a non mollare mai e crederci sempre e sicuramente ci darà poi dei buoni risultati certo e tu hai detto siamo uscite fuori dal terzo tempo perché nei primi due eravamo eccessivamente contratte è stata una sfida un po' da saliscendi primo quarto vissuto sui binari dell'assoluto equilibrio 0-0 il punteggio nel secondo quarto c'è stato l'1-4 che poi ha finito per rivelarsi decisivo perché la vostra rimonta è arrivata fino al meno 1 conclusivo ti chiedo come si può analizzare il parziale negativo che avete subito nella seconda frazione di gioco è sicuramente difficile perché il parziale 4-1 nel secondo tempo è come iniziare una partita da capo solo che appunto iniziando dal secondo tempo quindi avendo solo gli ultimi tre tempi siamo state brave però nel secondo e nel terzo tempo a continuare a crederci a farci vedere e sfruttando tutti i loro diciamo errori e di fare questa rimonta poi potevamo anche guadagnarci un pareggio diciamo che anche sfortunatamente non è stato così purtroppo ma cercheremo sempre di fare meglio nelle prossime partite da questi errori cercheremo di fare meglio appunto è indubbio che l'assenza al momento di uno dei vostri elementi cardine stia pesando sappiamo tutti che Paola Di Maria è box per un infortunio una perforazione del timpano quanto sta pesando la sua mancanza nell'area dei due metri perché poi c'è Anastasia Riccio e credo che quando Riccio esca a rifiatare ci sia una sorta di turnover si va in quella zona a turno sì sicuramente non è per niente facile avere un po' in meno un elemento come Paola che ci dà sempre una mano e lotta sempre d'altronde bisogna giocare anche con queste difficoltà e magari anche con questa diciamo nostra piccola sfortuna tra virgolette bisogna sfruttare certi movimenti che sappiamo fare e che Mario ci appunto ci insegna per sfruttare queste piccole azioni anche senza poi Goa certo vengo un attimo a una tematica un po' più personale perché sono andato a informarmi e potrei dire senza ombra di dubbio e di errore che Giulia Lombella è una sportiva a tutto tondo perché al tuo cammino da pallannotista unisci anche un'altra attività e adesso l'andiamo subito a scoprire ti chiedo come si intersegano nel tuo percorso sportivo i ruoli di pallannotista appunto e arbitro di calcio nelle categorie giovani sì come hai detto tu faccio anche l'arbitro di calcio e pur adesso direi che sta andando molto bene cerco sempre di organizzarmi per incastrare tutte e due e infatti il sabato giochiamo con appunto il Bogliasco e la domenica ogni domenica vado ad arbitrare è difficile perché è difficile e sono completamente due cose diverse però è anche questo il bello appunto e nell'essere due cose totalmente diverse tra loro qual è il punto in comune? è una domanda difficile anche per gli allenamenti in sé sono due cose diverse nel senso che una corri, una nuoti, usi la palla però per tutte e due diciamo che devi essere sempre concentrata determinata soprattutto certo andiamo nuovamente su quella che è l'attualità sabato prossimo prima della pausa per la Final Six di Coppa Italia vi attende il derby di ritorno con l'anio promossa terribile e il Rapallo che partita ci aspettiamo? sicuramente una partita tosta sappiamo che sono una bella squadra che non molla noi siamo una bella squadra giovane anche noi non mogliamo mai cercheremo di sfruttare tutti i loro errori per appunto vincere questa partita e speriamo bene anche un pizzico di fortuna magari a qualche volta serve e cercheremo di fare il meglio questa settimana sarà importante appunto per preparare questa partita chiudiamo con un'ultima battuta hai stata protagonista del recente raduno della Nazionale Under 20 a Torino che tipo di onore è? che tipo di orgoglio provi quando indossi la calottina azzurra? sono molto molto felice lo aspettavo da tanto è sempre stato un sogno come penso tutte le ragazze che fanno palla nuoto e indossare la calottina è una bella soddisfazione e speriamo di continuare così ecco va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Giulia Lombella per essere stata in nostra compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Giulia grazie mille ciao grazie a te ancora grazie a te